Adesso parliamo della garanzia per i vizi. Garanzia per i vizi che obbliga il venditore rispetto all'acquisto effettuato dall'acquirente. In pratica ciò attiene alla condizione materiale del bene, che è oggetto della compravendita, mentre la garanzia da vizi riguarda il trasferimento, quindi la condizione sotto l'aspetto del titolo, la situazione relativa al titolo. Invece in questo caso la garanzia da vizi riguarda non solo eventuali vizi, ma è riconducibile anche all'aspetto relativo alla qualità del bene. Se c'è un difetto nella qualità, il venditore ne risponde. Però, veniamo prima ai vizi. Innanzitutto i vizi, l'acquirente può fare valere la garanzia dai vizi solo per i vizi occulti. I vizi occulti sono quelli che non solo non erano conosciuti dall'acquirente, ma non potranno nemmeno essere conosciuti usando l'ordinaria diligenza. Quindi tutti i vizi che potranno essere conosciuti usando l'ordinaria diligenza sono vizi che possiamo definire riconoscibili. Invece sono i vizi occulti e la garanzia da vizi in questo senso non opera, perché se il vizio era riconoscibile, l'acquirente ha dato modo, durante l'acquisto, di rendersi conto che la cosa era viziata. Perché c'è una disposizione contenuta nel paragrafetto sugli obblighi del venditore che ci dice che il vizio riconoscibile non è sottoposto alla garanzia per i vizi? Perché chiaramente si cerca in realtà la garanzia dei vizi va a favore dell'acquirente, però si può anche pensare che l'acquirente possa acquistare una cosa vendendosi conto che è viziata, magari perché costa un po' meno e poi magari possa ripensarci e evidenziare il vizio. Quindi per evitare anche questo inconveniente che in realtà andrebbe proprio a tutela del venditore, si ritiene che si debba sottoporre la garanzia per i vizi, che obbliga appunto il venditore a farsi responsabile di eventuali danni derivanti anche da ciò, solo per i vizi occulti, cioè per quelli che usando l'ordinario la diligenza non c'è la modo di constatare. Quindi se io durante un acquisto, diciamo, acquisto una cosa che è viziata in modo riconoscibile e io potrei rendermene conto usando l'ordinario la diligenza, in realtà quel vizio poi non lo posso più lamentare. Viceversa, se il vizio è occulto, per cui non avevo modo di rendermene conto, allora tale vizio è sottoposto appunto al conducibile della responsabilità del venditore, appunto che deve garantire la cosa da quella tipologia di vizi. Però esiste anche un'altra situazione, esiste una situazione che consente di fare valere la garanzia per i vizi anche nel caso di vizio riconoscibile. Quando? Quando si riesca a dimostrare che il venditore ha, diciamo, all'atto dell'acquisto, quando, diciamo, l'atto della stipulazione appunto di contratto di compravendita, ha affermato, ha dichiarato che la cosa era esente da vizi. Allora, se è il venditore che dichiara che la cosa era esente da vizi, anche se il vizio è riconoscibile, la garanzia per i vizi può essere fatta valere. Perché? Tanto perché la dichiarazione del venditore può, diciamo, abbassare la guardia dell'acquirente, quindi può fare venire meno l'attenzione dell'acquirente circa, diciamo, la necessità, usando l'ordinaria dirigenza, di riscontrare un vizio nella cosa, perché alla luce appunto anche della buona fede, no? Che, diciamo, sempre deve sussistere, no? Nell'assunzione appunto di un rapporto che genera un'obbligazione, appunto un rapporto anche contrattuale, soprattutto, in pratica, l'acquirente può essere anche portato a credere appunto alle parole del venditore che afferma che la cosa era esente da vizi. Poi, oltretutto, la garanzia dei vizi si regola anche, appunto, diciamo, il vizio deve essere occulto oppure se è riconoscibile solo, esclusivamente, se il venditore comunque ha dichiarato che è esente da vizi. Ciò evidenzia anche la malafede, poi, del venditore, no? Però il vizio deve essere anche giuridicamente rilevante. Quindi, per essere giuridicamente rilevante, significa che, chiaramente, una cosa può avere un piccolo vizio che però non è giuridicamente rilevante rispetto alla garanzia dei vizi. Ad esempio, io ho comprato una tuta antediluvio l'altro giorno, c'è una piccola macchiolina, no? Che, oltretutto, è stata evidenziata durante l'acquisto, no? Una cosa che è minima, no? Che, però, distingue, diciamo, quel prodotto magari da un altro uguale che non ha quella macchiolina. Però, diciamo che il vizio riconoscibile, diciamo, il vizio giuridicamente rilevante è un vizio che o interessa in modo apprezzabile l'utilizzo che si deve fare di quel bene oppure che interessa anche il valore di quel bene. Quindi, se un vizio, diciamo, fa venire meno in modo apprezzabile il valore di quel bene allora è un vizio giuridicamente rilevante. Se, allo stesso tempo, appunto, ne compromette, diciamo, l'utilizzo che deve farsi di quel bene proprio rispetto a quella che è la tipologia di quel bene, che sono le caratteristiche di quel bene allora è un vizio giuridicamente rilevante. Se invece un vizio, appunto, come, ad esempio, la tuta antidiluvio adesso faccio un esempio di progetti, potrei farne altri 300.000 tanto mi è venuto in mente questo adesso al momento. Se compri una tuta antidiluvio, la tuta antidiluvio, cioè l'utilizzo, l'utilità che si ricava dalla tuta antidiluvio è quella di non bagnarsi non è quella di fare una sfilata, quindi se c'è una piccola macchiolina non rilevano e una piccola macchiolina sbiadita così su una tuta antidiluvio che nemmeno si vede non inficia nemmeno, diciamo, in modo apprezzabile il valore della tuta e pertento, oltre che ma anche scontata. E pertento sostanzialmente quello sarebbe una tipologia di vizio che non è giuridicamente rilevante. Però, oltre al vizio, diciamo, ci può essere anche un difetto di qualità. Il difetto di qualità significa appunto che la qualità di quella cosa magari inferiore... anzi, prima di arrivare al difetto di qualità diciamo che però, rispetto anche all'utilizzo che si fa della cosa abbiamo detto appunto che, ad esempio, l'errore riconoscibile invece può essere rilevante nel senso della garanzia dei vizi per i vizi se il venditore ha dichiarato che la cosa è resente da vizi questo può abbassare l'attenzione appunto dell'acquirente nel controllare la cosa però è anche, diciamo, la conseguenza appunto di come si manifesta il rapporto perché nel calcolare appunto la rilevanza appunto del vizio a livello giuridico si deve avere, diciamo, fare attenzione anche a come si sono svolte i rapporti tra le parti di dichiarazione che le stesse si sono scambiate perché può essere che un bene, diciamo, sia utilizzato diciamo che, ad esempio, tutto antediluvio viene utilizzato no, per non bagnarsi quando si va in giro con appunto mezzi scoperti, biciclette, moto, eccetera ma può anche essere che uno acquisti una cosa si mette d'accordo col venditore per un utilizzo alternativo e se il venditore offre delle garanzie rispetto a quell'utilizzo anche se non rientra nell'utilizzo specifico di quel bene se poi la cosa si dimostra inefficace sotto l'aspetto di quell'utilizzo convenuto tra le parti allora comunque l'acquirente potrà agire quindi vedete come appunto la rilevanza appunto del vizio o del difetto di qualità sicuramente attiene tutta una serie di criteri che comunque attengono anche all'interpretazione che si fa poi del contratto pertanto, appunto dicevamo uno può acquistare un bene però per un utilizzo diverso se lo specifica appunto al venditore il venditore offre delle garanzie che quel bene può andare bene può, diciamo, essere utile per quell'utilizzo poi si dimostra che, diciamo, si nei fatti non risulta, diciamo, possibile utilizzarlo in quel modo è chiaro che appunto c'è comunque un errore nel processo di dichiarazione diciamo nel processo di formazione della volontà che ha portato all'acquisto infatti in questo senso dicevamo che può essere promossa anche ad esempio l'azione per l'errore questo è imprescrittibile viceversa l'azione per il vizio non è imprescrittibile è sottoposta, diciamo, stando alla disciplina comunque dei contratti è sottoposta a un termine prescrittivo di un anno dal momento in cui si è venuto in conoscenza del vizio ma soprattutto siccome la garanzia da vizi che obbliga il venditore che è un obbligo appunto in capo al venditore è un obbligo che è disposto all'ordinamento giuridico in capo al venditore proprio per tutelare l'acquirente allo stesso tempo l'ordinamento giuridico richiede all'acquirente una certa attivazione e quindi richiede che lo stesso denunci comunque il vizio al venditore entri in un certo termine che stabilito appunto dalla disciplina dei contratti sarebbe di otto giorni e tutto ciò a meno che il venditore non abbia occultato i vizi e quindi in caso di malafede non è necessario in pratica se uno scopre il vizio ma non lo denuncia entro otto giorni dalla scoperta del vizio teoricamente a parte che bisogna anche dimostrare appunto che il vizio l'ha scoperto in quel momento eccetera eccetera però diciamo tralasciando tutti gli aspetti eventualmente probatori se non lo denuncia entro quel termine in pratica perde la facoltà di promuovere l'azione appunto per la garanzia dei vizi che lo tutela insomma della garanzia dei vizi e quindi gli consente diciamo ad esempio di promuovere la risoluzione del contratto la riduzione del prezzo o eventualmente il risarcimento del danno quindi diciamo che la disciplina pertanto della compravendita dispone in merito a questa situazione proprio a garanzia dei vizi ci offre uno strumento a tutela dell'acquirente che gli consente di promuovere o la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo a seconda dei casi e anche del fatto che magari ciò può variare il fatto che fosse a conoscenza appunto del vizio e eventualmente anche appunto il risarcimento del danno sono subito dei danni però questo riguarda poi anche la garanzia dei vizi non lo vedremo però se diciamo la disciplina appunto dei contratti stabilisce questo termine otto giorni per denunciare il difetto rilevato e poi un anno in termini prescrittivi per promuovere l'azione viceversa ad esempio promuovere un'azione per l'errore che attiene appunto il processo di formazione della volontà che ha portato all'acquisto è invece imprescrittibile però l'errore deve essere essenziale però quindi queste due azioni in realtà possono anche sovrapporsi viceversa una cosa che dobbiamo adesso specificare vabbè non abbiamo parlato del difetto di qualità comunque anche per il difetto di qualità il discorso non cambia cioè deve essere apprezzabile e quindi diciamo giuridicamente rilevante il vizio diciamo se fa venire meno in modo apprezzabile il valore della cosa e giuridicamente rilevante se impedisce l'utilizzo usuale che si dovrebbe fare pertanto però esiste anche una norma che dice che la cosa consegnata non deve essere di qualità inferiore alla media quindi se c'è un difetto nella qualità ha stregato il vizio diciamo vale la garanzia che consente questi strumenti appunto all'acquirente la possibilità di promuovere la risoluzione del contratto eventualmente riduzione del prezzo eventualmente appunto risoluzione del danno però dicevamo una cosa importante da dire ah e poi appunto abbiamo visto come diciamo anche la l'entità insomma del vizio della qualità diciamo deve essere calcolata anche sulla base appunto di come si svolge il rapporto tra le parti dell'ichiarazione che si scambia e così via però l'utilizzo appunto che si deve fare del bene eccetera però una cosa importante da dire con la con la quale appunto concludiamo il discorso è che appunto la disciplina generale ci consente ad esempio come dicevamo di promuovere ad esempio la risoluzione del contratto anche diciamo semplicemente per l'inadempimento se la cosa ad esempio non viene consegnata ad essa si sovrappone appunto la disciplina speciale sulla compravendita che ci dice appunto che esiste anche la garanzia da vizio e la garanzia da vizio però alla garanzia per i vizi così come disposta dalla disciplina appunto sulla compravendita si sovrappone ulteriormente la disciplina dettata dal codice del consumo del consumatore perché tale disciplina in pratica revisione quelli che sono i termini sia di prescrizione per promuovere azione sia diciamo per i termini per denunciare il vizio appunto rilevato e dicevamo termine la disciplina dei contratti stabilisce appunto termine di otto giorni per denunciare il vizio e invece la disciplina diciamo del codice del consumo stabilisce un termine addirittura di 60 giorni quindi due mesi viceversa la prescrizione per promuovere azione poi per ottenere ad esempio esercimento mettiamo caso è di un anno secondo la disciplina appunto sulla compravendita viceversa il codice del consumo stabilisce un termine prescrittivo diciamo ulteriore ampliato addirittura di 26 mesi quindi due anni e qualche cosa e due mesi viceversa appunto se la disciplina appunto sui contratti ci consente la possibilità offre appunto all'acquirente che voglia denunciare il vizio possibilità di rifarsi lo strumento della risoluzione del contratto o della riduzione del prezzo quindi con riguardo alla risoluzione del contratto parliamo di azione redibitoria con riguardo alla riduzione del prezzo di azione estimatoria perché chiaramente richiede l'estimazione del bene per capire in quale proporzione deve aversi la riduzione del prezzo e sempre aspetta l'eventuale risarcimento del danno diciamo questi rimedi fanno sì che con riguardo l'azione redibitoria ad esempio gli effetti quali sono sono che l'acquirente può diciamo è tenuto a restituire il bene sempre che non sia venuto meno proprio per effetto del vizio supponiamo che ad esempio trattandosi di cose elettroniche si esplose proprio per un difetto di fabbricazione ad esempio un manuale ma diciamo gli concede la possibilità di obbligare appunto il venditore a restituire invece il prezzo corrisposto e anche ogni eventuale spesa che si sia fatta appunto risarcire eventuale danno sia all'utente che diciamo eventuali danni e anche pagare insomma le spese che si siano sopportate appunto per l'acquisto salvo sempre appunto risarcimento del danno poi tra l'altro diciamo risarcimento del danno risarcimento del danno il venditore è tenuto se non prova comunque di che l'ignoranza insomma che in realtà appunto di essere stato in buona fede è che c'era ignoranza sul vizio incolpevole in quel caso può essere che la responsabilità facendo sempre l'esempio di una cosa elettronica che esplode e che eventualmente provi che dei danni chiaramente si sposta su un altro soggetto quale può essere ad esempio il produttore e questo investendo anche eventuali altre considerazioni in merito al diritto privato su quelle che sono le regole internazionali diritto privato che in questo caso consentirebbero all'acquirente di promuovere diciamo un'azione rivolta al risarcimento stabilendo e scegliendo a quale disciplina riferirsi se ad esempio quella dello Stato in cui si è verificato il danno cioè il proprio oppure anche il danno oppure anche riferirsi se magari le regole sono più rigide alla disciplina dello Stato dove il bene è stato prodotto se supponiamo il caso la produzione appunto sia estera comunque tornando ai vizi dicevamo tornando alla garanzia da vizi dicevamo la disciplina specifica appunto sulla compravendita offre questi strumenti risoluzione del contratto riduzione del prezzo e sempre ferma restando l'eventuale responsabilità per danni da parte del venditore o eventualmente se questo dimostra che l'ignoranza incolpevole sul vizio e anche il limite produttore però la disciplina invece che revisione i termini come dicevamo sia per denunciare il vizio rilevato sia per promuovere l'azione quindi questa disciplina contenuta nel codice del consumo in pratica consente altri strumenti che sono appunto quello di prevedere l'eventuale garanzia la garanzia invece consente che cosa non solo l'eventuale possibilità da parte dell'acquirenti di promuovere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo ma anche la possibilità chiaramente di ottenere eventuale riparazione o sostituzione del bene entro i termini previsti dalla garanzia eccetera eccetera questa è una cosa già che è più diciamo affine all'esperienza comunque dei consumatori di tutti i giorni insomma dei consociati perché è qualcosa di cui si può avere un'esperienza diretta normalmente andando a fare qualunque acquisto però la garanzia dicevamo questo ulteriore strumento che è offerto appunto invece da questa disciplina sovrapposta a quella del contratto di compravendita che è appunto quella contenuta nel codice del consumo e che revisiona anche questi termini in pratica diciamo concede la possibilità di ottenere eventuale sostituzione o riparazione del bene di cui si sia appunto evidenziato un vizio però diciamo del bene appunto dell'oggetto insomma della compravendita che fosse che l'acquirente appunto per il quale è stato denunciato il vizio però in talunni casi diciamo anche la riparazione o la sostituzione è subordinata a determinate regole per cui se comunque l'acquirente subisce diciamo un inconveniente eccessivo magari dettato proprio dai tempi di attesa per la sostituzione o per la riparazione allora in questo caso comunque la stessa disciplina consente l'acquirente sempre la possibilità di promuovere in ogni caso la risoluzione del contratto e o la riduzione del prezzo e eventualmente appunto il risarcimento del danno quindi adesso passiamo invece alla garanzia da evizione ora non è che l'ho fatto diciamo ho un po' tentennato eccetera però secondo me comunque devo studiare anche altre cose adesso non starò a rifare subito questo video magari se capita in futuro non credo cioè può anche essere però avendo anche altre cose da fare magari non starò a ripetere proprio questo argomento sì può essere che magari se me lo ritrovo come qualcosa di questo argomento insomma lo ritrovo cioè devo ripassare magari questo argomento con rispetto appunto allo studio magari di un'altra materia o può essere che magari magari sostituisca questo video adesso lascio questo sì non è fatto benissimo comunque abbiate pazienza perché devo andare avanti poi appunto con il programma d'esame e pertanto per adesso direi che perché se non altro anche se sono un po' confuso è tentennante comunque diciamo che mi sono espresso tutti i punti sui quali c'era da esprimersi e pertanto passiamo direttamente alla garanzia per evizione